Vuoi recuperare debiti formativi per partecipare a concorsi pubblici? Vuoi sapere tutto su Sociologia dei Fenomeni Politici? La nostra Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, fornisce la possibilità di seguire il corso online di Sociologia dei Fenomeni Politici, SPS11, ed ottenere 12 crediti formativi universitari per il Settore Scientifico Disciplinare, SPS11. Vai su www.icotea.it, cerca corsi singoli, clicca Sociologia dei Fenomeni Politici, SPS11.